La verità in 270 minuti, gli ultimi della stagione regolare per un Pescara chiamato venerdì sera la prova decisiva in casa di un Trapani penultimo e penalizzato in difficoltà anche dal punto di vista societario. Situazione impronosticabile alla vigilia del torneo per il Delfino e il doppio impegno Granata, Trapani prima e il già retrocesso Livorno poi diranno se l'ultima del Bente Godi con Chievo Verona sarà solo una pura formalità. Nella bagare che investe anche la Juve Stabia 41 ma soprattutto la coppia formata dal Delfino e dal Perugia quota 42. Queste due che si ritrovano lì a lottare per la salvezza non se la passano bene il Pescara e il Perugia, sono squadre che rischiano molto contro altre squadre che invece, ripeto, la salvezza la inseguono da più tempo quindi devono stare molto attenti a non sbagliare. Cosenza riceve il Pise per l'ultima giornata riceve la Juve Stabia e punterà lì a fare il sorpasso quindi sono due squadre che ancora non sono morte e che movimentano tutta la zona a salvezza con una Juve Stabia che adesso con questa vittoria col Chievo ha trovato speranze se non era una squadra che sembrava destinata al declino. Tutte sono vive e nessuno regala nulla, bisognerà sudare sangue per salvarsi. Non vorrei che Pescara puntando sui giovani e puntando anche adesso su Sottil che è un allenatore sicuramente più esperto anche se è debutante in categoria ma qualche esperienza l'ha già fatta. Ecco non vorrei che l'intervento sia stato tardivo, il rischio è quello perché, ripeto, a Pescara la società sa fare calcio benissimo, non sono sicuramente degli sproveduti. Però la sensazione che ho è che abbiano un po' sottovalutato la situazione. Che non sia un momento facile, lo si capisce anche dai repentini, cambia in panchina Sottil qualche giorno fa ha preso il posto delle grottaglie mentre in Umbria da poche ore è tornato in sella, strani incroci del destino. Proprio quel massimo odio che conquistò la massima serie col Pescara guarda caso proprio al provinciale di Trapani e guarda caso contro quel Cosmi che sedeva all'epoca sulla panchina dei siciliani e che adesso con un post pubblicato sui social preferisce tacere. Venerdì Biancazzurri senza lo squalificato Castanos e al netto dell'esito del ricorso ancora senza Galano che sconterà la seconda delle tre giornate che gli aveva inflitto il giudice sportivo dopo la reazione di Venezia. Pescara col fiatto sospeso per le condizioni di Zappa che sarà valutato dopo il problema muscolare di ieri ma soprattutto elemento imprescindibile negli equilibri tattici di una squadra che dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Scogna Miglio, Bettella e uno tra Drudi e Del Grosso. Sottile in fondo sulla presenza di Zappa conta parecchio e alla fine sarà lui a prendersi la corsia di destra mentre a sinistra sarà a corsa a tre. In mezzo certamente Busellato e Memusciai e il trio offensivo solito delle ultime uscite. Un orecchio sarà anche a Venezia dove la Juve Stabia va a caccia di punti in casa degli arancio-nero-verdi che tra le muramiche sono tutt'altro che imbattibili ma hanno un più due prezioso sulla coppia Pescara-Perugia. Attenzione anche al campo di Chiavari dove si reca proprio il Perugia. Liguri a meno tre dal Pisa che occupa l'ultimo posto playoff e che sperano che il Cosenza affamato di punti salvezza giocherà la partita della vita contro i nerazzurri del pescarese Luca D'Angelo. Troppo presto però per fare calcoli il pescare a un jolly che è quello interno con il Livorno di lunedì prossimo ma senza superare l'ostacolo Trapani quella gara rischia di diventare poco influente.